Migliaia di italiani torturati, legati ai piedi con fili di ferro e gettati in grandi inghiottitoi carsici, le cosiddette foibe in Venezia Giulia. Si ricorda oggi questa tragedia compiuta dalle milizie comuniste della Jugoslavia, di Tito, alla fine della seconda guerra mondiale. Anche Piacenza celebra il giorno del ricordo dedicato ai martiri delle foibe, istituito nel 2004 dal Parlamento. Questo deve essere da monito a noi, alle nuove generazioni, per farci capire appieno il valore della pace e della libertà che l'Unione Europea garantisce ai propri cittadini. Una giornata ancora oggi divisiva, nella cerimonia organizzata nel giardino pubblico di Via Buotti, balza all'occhio l'assenza di esponenti del centro-sinistra locale. Le pagine di storia vanno lette, vanno vissute e quando i valori fondanti prevalgono sulle spaccature, la storia e le guerre hanno diviso. Il concetto di pace è un concetto universale. Presente invece una rappresentanza degli studenti. È importantissimo per noi celebrare le vittime delle foibe come le vittime di ogni sterminio, in quanto il ricordo è fondamentale per la storia, soprattutto per le generazioni di oggi. Il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri ricorda che caddero sotto il regime di Tito, non solo coloro che venivano considerati oppositori politici, ma anche le fasce più fragili e inermi tra i civili. Barbieri invita a celebrare un giorno del ricordo per chi ha pagato la vita con le aberrazioni dei conflitti e dei regimi dittatoriali.